Mi piace M-Vision TV. Ciao! Civitanova Marche anche quest'anno ha rinnovato la tradizione del Luna Park estivo. Da giugno fino ad agosto il piazzale antistadio si trasforma in un vero e proprio parco del divertimento. Questa sera il Tagadà vi auguro un buon divertimento a tutti. Grazie! Vai Tagadà! Vai Tagadà! È la macchina ribelle questa! È la macchina ribelle! Il Luna Park del terzo millennio, storicamente diretto dalla famiglia Greco, rappresenta una importante struttura in cui lavorano centinaia di persone, con l'obiettivo di offrire al pubblico il miglior servizio, sia sotto il profilo tecnologico, con attrazioni sempre all'avanguardia, che della sicurezza e dell'accoglienza, adottando tutti gli accorgimenti previsti dalle normative e mettendo a disposizione un ampio parcheggio. Anche quest'anno gliel'abbiamo fatta. Dopo tre mesi di pausa è stata pura. Siamo arrivati all'ultimo momento, non si sapeva di farlo quest'anno in Luna Park, però ho detto, oramai è una tradizione, è impossibile non farla. La piazza di Civitanova Marche per voi è storica? È più che storica. Per noi Civitanova oramai è una piazza molto importante. Ci stiamo di casa. Come al solito, da qui arriverete a Macerata? Se ci danno la possibilità, perché ancora non sappiamo nulla. Voglio ringraziare il signor Michele Greco, che ci ha ospitato nel suo Luna Park, bellissimo, e voglio ringraziare il sindaco e tutto il comune di Civitanova Marche, che ci permette di lavorare, perché il divertimento è per il popolo, ma per noi è il lavoro e il vivere per i nostri figli. Sabato scorso abbiamo fatto l'inaugurazione con l'amministrazione comunale dell'apertura del Luna Park al completo, tra la quale c'era anche la signora Mariettini. Le mani in cielo! Lo facciamo in sagerata! Su le mani! Le mani in battito ragazze, le mani in battito! Ben accambino! Civitanova! Tutti insieme! Voglio sentire l'Uro lì sopra! In sagerata! I numerosi responsabili delle attrazioni presenti nell'Una Park di Civitanova Marche si sentono una grande famiglia che gestisce al meglio quella che di fatto è un'azienda che eroga un importante servizio ludico ai cittadini. Un divertimento sano, fruibile da grandi e piccini, che offre l'opportunità alla famiglia di ritrovarsi in uno spazio sicuro e facilmente accessibile. Caratteristiche particolarmente apprezzate in questa fase post-lockdown dovuto al Covid. Quest'anno ci sono nuove attrazioni, il Luna Park è stato rinnovato. Vi aspettiamo sempre tutti quanti, la gente ha voglia di divertirsi, è sempre tutto uguale ma è cambiato soltanto che ci siamo adeguati alle regole per il Covid. Le giostre sono tutte sanificate ed igienizzate e quest'anno, come grande novità, ogni sabato ci saranno degli eventi. Vi aspettiamo! Ciao! E allora siamo pronti ragazzi, iniziamo lo spettacolo, dai! Ci ritroviamo a fuori le mani! Su le mani, su le mani, iniziamo lo spettacolo! L'unica giostra che va a testa l'ingiore ragazzi, fuori il casino! Oh ragazzi che aspettate, mantenete la distanza eh! Ci siamo, fuori l'uno! Il Luna Park di Civitanova Marche è aperto tutti i giorni, propone attrazioni adatte a tutte le età, all'altezza di qualsiasi aspettativa. Il martedì e il giovedì continua l'eccezionale offerta del tutto a un euro. Novità assoluta per l'estate 2020, Salta Monti! Su le mani, su le mani, su le mani, inizialità! Si aumenta, si aumenta, si aumenta! Allora che cazzo! E riguarda dalla stagna! Lo volete più veloce, lo volete più veloce? Lo volete più veloce? Voglio vedere su le mani, su le mani, su le mani, su le mani, su le mani! Si aumenta! Direttamente dalla spagna, dalla vita dell'anno! Voce! Ti aspetto, ti aspetto per il prossimo girone, non mancate! Il desiderio di coltivare il fanciullo che vive in noi, la voglia di sfidare i nostri limiti, così come il piacere di condividere con la nostra famiglia, piuttosto che con i nostri amici, il tempo libero e i momenti di svago, fanno del Luna Park uno dei luoghi di maggiore frequentazione da sempre, che i rapidi cambiamenti della società, sembra non siano riusciti ad intaccare. Il Luna Park del terzo millennio, a Civitanova Marche, vi aspetta, con tante sorprendenti attrazioni. Giovedì sera, giovedì sera, giornata promozionale! Divertimento giusto! Allora adesso voglio fare una dedica, una dedica speciale a una bellissima ragazza! E vai così, velocissimi! Vai ragazzi! Un motivo dell'estate! Fantastico! Esagera, esagera!